Blitz dei carabinieri della compagnia di Gela, in manette una presunta banda di rapinatori. Una casa, dentro una donna anziana, poi una rapina, poi le manette. Quattro sono adesso in carcere. Loro, Emanuele Terranova, 21 anni, Leandro Normanno, 21 anni, Vincenzo Cascino, 19 anni, tutti e tre di Gela, poi un albanese, lui, Eagland Bodinacu, pluripregiudicato, nonostante 18 anni appena compiuti. Gela, ecco la caserma della compagnia dei carabinieri, qui è squillata una telefonata alla 112. Attenzione, dei ragazzi si arrampicano su di una palazzina con un tubo di metano, dove? In via Aristide. Allarme rosso, le gazzelle dei militari si sono precipitate nel centro storico. I quattro sono stati ricercati, inseguiti. I militari hanno letteralmente svirgolettato tra i vicoli e i cortili della zona più antica della città del petrolchimico. Poi, tra peripezie e acrobazie, i quattro rapinatori fuggitivi sono stati acciuffati. La refurtiva, appena rubata dall'abitazione della pensionata, è stata in parte recuperata. La donna, che ha già subito un'altra rapina, due messe addietro, è quasi svenuta per la paura. Terra Nova, Normanno, Cascino e Bodinacu sarebbero una gang che avrebbe pianificato furti e rapine. Lo studio delle abitudini delle vittime. Poi il colpo, spesso violento. Sì, perché i rapinati sono stati immobilizzati. Corde e tappi in bocca. Poi picchiati. Dalla fine delle 2008 ad oggi sono state già 18 le rapine dentro le abitazioni, soprattutto a danno di anziani. Adesso la banda dei quattro è stata disarmata, arrestata ed anche l'escalation delle rapine sarebbe stata troncata. Almeno così, secondo i carabinieri. Sì.